ben ritrovati sono fabio pizzole questo è in dialogo con i lombardi che botta le elezioni regionali sono state per il partito democratico e per il centrosinistra più in generale una vera e propria debacle è stato riconfermato presidente di regione lombardia come sapete attilio fontana e lo ha fatto con addirittura il 54 per cento dei consensi consensi espressi va precisato perché sono andati al voto poco più del 40 per cento dei lombardi davvero una cifra molto molto bassa con un altissimo astensionismo che suona un po come una bocciatura per la regione e per coloro che hanno guidato la regione negli anni scorsi però non è bastato questo a far pensare bene ai lombardi almeno quelli che hanno deciso di andare a votare di cambiare la guida di regione lombardia quindi complimenti al presidente attilio fontana riconfermato alla guida di regione lombardia e un rammarico perché davvero poteva essere l'occasione buona per dopo 28 anni avere un'alternanza alla guida di regione lombardia è stato però un risultato deludente quello di piero francesco maiorino che si è fermato al 33 per cento qualcuno dice ha fatto il suo è più di così una figura come quella di maiorino per la sua collocazione non poteva essere gradita ai lombardi ma col senno di poi si può dire questo ed altro molto 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 tre volte uso il molto deludente anche il risultato di letizia moratti che non ha fatto altro che dividersi con azione e renew europe questo è il simbolo che era stato presentato quello che il terzo polo aveva più o meno raggranellato in lombardia alle elezioni del settembre scorso ma bando ai commenti anche perché ne farò ancora tra poco insieme a voi e sentiamo la prima domanda ciao fabio sono un ugo da milano ha vinto fontana peana peana viva fontana che bello che bello la destra ha vinto la gente non è andata a votare molta di questa di area di centro-sinistra sono andati a votare pochissimi giovani per un'elezione che invece secondo me era molto importante nonostante questa seconda sconfitta perché dopo il governo anche questa volta la centro sinistra è riuscito nell'impresa di perdere di venti punti il pd e tutto il movimento del centro sinistra risultato per la vittoria a milano che bello a setto san giovanni che bello dando la colpa agli elettori chi dava la colpa come calenda agli elettori stessi chi dava la colpa come la moratti al freddo chi dava la colpa che la campagna trovare è stata corta il candidato sbagliato la famosa cultura degli alibi la preoccupazione maggiore del parto democratico in questi giorni è stata quella di trovare i nomi per la segreteria non mi sembra sia stata quella di voler cambiare veramente la lombardia purtroppo però dopo il parto democratico non c'è nient'altro la sinistra è sparita non c'è alternativa i giovani non tornano alle urne ecco vorrei sapere cosa ne pensi a riguardo e soprattutto quali soluzioni per te che se una persona molto avveduta potrebbero trovarsi o esserci per riuscire a riportare finalmente la gente e i giovani a votare grazie grazie a te ugo condivido in larga parte l'analisi che hai fatto è assolutamente inutile la soddisfazione che dalle parti del pd è emersa per dire siamo ancora nettamente avanti a milano siamo il primo partito in diversi centri più grandi della lombardia non fa nulla perché qui in palio non c'era la prevalenza o il fatto di essere davanti ad altri in un comune piuttosto che nell'altro qui in ballo c'era regione lombardia e bisognava vincere regione lombardia lo ha fatto a tilio fontana e a lui vanno i complimenti come dicevo in precedenza agli altri rimangono tante domande perché non si è riusciti a mettere in piedi una proposta alternativa credibile perché ancora i lombardi si sono affidati ad attilio fontana certo alibi non devono essere presi a buon mercato non si può dire sono gli elettori da cambiare come ha fatto poi tentando un po di correggersi anche con una lettera del corriere della sera calenda c'è da chiedersi come si può provare davvero a creare un'alternativa in lombardia io credo che si debba cambiare schema di gioco insomma portare tutti i propri elettori o presunti tali al voto non è sufficiente né per il pd né per il centro sinistra centro sinistra che poi deve allargarsi molto di più perché questa volta era un centro sinistra diviso e chi si presenta diviso soprattutto ma dico una banalità in elezioni a turno unico è destinato alla sconfitta il centro destra si ricompatta sempre pur avendo più di qualche mal di pancia al proprio interno però al momento del voto tutti d'accordo poi ci si metterà a tavolino dopo a stabilire pesi contrapesi e quant'altro però prima bisogna vincere le elezioni cosa che il centro destra in lombardia mi sembra abbonato a fare ma aveva due domande ugo nella sua riflessione ovvero come riportare la gente al voto e come in particolare riportare i giovani al voto allora sul riportare la gente al voto anzitutto bisogna tornare a parlare di politica perché fino qui per quanto riguarda la regione ci si è azzuffati su tante cose azzuffati sulla pandemia azzuffati sulle liste d'attesa detto tu sei peggio di me e via discorrendo però non erano chiare delle proposte politiche realmente concrete da presentare ai cittadini che potessero valutare allora perché no questa roba qua mi interessa è chiaro che una parte della distrazione nei confronti delle elezioni è passata anche dal fatto che in maniera molto furba e tatticamente avveduta il presidente riconfermato fontana ha evitato qualsiasi confronto si è nascosto tutta la campagna elettorale e quando il presidente in carica si nasconde è difficile anche provare a avere una dialettica provare a spiegare a discutere su dei concetti per convincere i cittadini e l'altra cosa è bisogna arrivare il più possibile anche nelle zone dove non ti ascoltano è stata l'elezione che ha visto il partito democratico diminuire drasticamente i suoi voti ma aumentare di molto le preferenze dei suoi candidati e di coloro che sono stati eletti soprattutto in alcune zone e questo deve far riflettere perché vuol dire evidentemente che i candidati hanno speso molte energie anche molti denari per farsi eleggere questo però non ha contribuito all'aumento dei voti della coalizione nella quale venivano presentati come candidati i voti sono diminuiti le preferenze sono aumentate della serie è utile per farsi eleggere fare una campagna elettorale aggressiva molto dispendiosa ma anche magari molto generosa a livello di tempo dato non è utile però se non hai dei messaggi chiari da parte di quello che candidi come presidente messaggi chiari e convincenti per gli elettori quanto ai giovani allora per riportare i giovani a votare non basta candidare dei giovani poi complimenti ai giovani che sono stati eletti che saranno di più rispetto alla legislatura che ormai si è conclusa perché l'età media del consiglio regionale si abbassa ed ora è di 48 anni ci sono anche dei ventenni che entrano in consiglio regionale un esponente della lega di 24 anni un ventisettenne 26 ventisettenne che è stato il record man di preferenze a milano per il partito democratico paolo romano a cui vanno i complimenti per la brillante campagna elettorale fatta il tema però è che non basta presentare dei giovani per riportare i giovani a votare perché sono i giovani embedded quelli più collegati al partito quelli che vengono mobilitati da queste candidature per tornare a parlare di a parlare di argomenti che interessino i giovani probabilmente bisogna tornare a parlare di politica anche in tanti luoghi in cui non se ne parla più a scuola ad esempio all'interno delle realtà giovanili ecclesiali e non ecclesiali perché meno si parla di politica e non basta farlo sui social e meno i giovani si interessano alla stessa c'è l'impressione che la politica si allontana mille miglia e chi decide di giocarsi in prima persona dall'assalto appunto al fortino della politica e come giovani magari ci riesce tutti gli altri giovani però vivono altrove allora bisogna trovare dei luoghi in cui parlare di più di tematiche legate alle istituzioni e parlare di più di politica perché se i giovani vengono coinvolti si sentono responsabilizzati anche solo a livello di discussione poi possono entusiasmarsi altrimenti fanno altro e poi se la politica si occupa poco di loro tanto più i giovani se ne vanno da altre parti quindi ricominciare a parlare di tematiche legate alla politica alle istituzioni in maniera anche comprensibile per i giovani può essere uno modo utile per riavvicinarli al voto non ho ricette Ugo anche se ti ringrazio per la stima dimostrata nella domanda però questo secondo me è un elemento sul quale bisognerebbe tornare un po' a ragionare qual è il problema che la sensazione che anche in queste elezioni tutta la partita si sia giocata tra quelli che si possono definire addetti ai lavori cioè quelli che avevano stabilito le liste si sono presentati le liste stesse ed è stato un giochino tutto interno che è riuscito pochissimo a parlare al di fuori anche e soprattutto ai giovani e finché i partiti si trasformano sempre più in comitati elettorali che si attivano solo per le legittime aspirazioni e ambizioni di coloro che vogliono entrare nelle istituzioni meno i cittadini si interesseranno di politica e andranno a votare mi fermerei qui anche se potrebbero esserci tante altre considerazioni magari se le volete mi fate altre domande le facciamo nel prossimo podcast quello di settimana prossima settimana avventura sentiamo invece una seconda domanda il fatto che silvio berlusconi sia stato assolto per motivi meramente formali e non sostanziali non perché i fatti non siano avvenuti ma perché le prove i fatti stessi non erano utilizzabili nel processo non ti fa dire che siamo davvero nel paese di pirandello grazie alberto per questa domanda cito il nome perché mi è arrivato il vocale attraverso il canale whatsapp sì una espressione anche gentile quella del paese di pirandello perché altri avrebbero utilizzato espressioni meno letterariamente ispirate sì ecco mi sembra che il dibattito sia stato abbastanza stucchevole in questi giorni i difensori di berlusconi non solo quelli giudiziariamente titolati ma anche quelli politicamente connotati hanno detto ecco la riprova che berlusconi è stato perseguitato addirittura il capogruppo alla camera cataneo ha parlato di 130 processi in cui berlusconi è stato sempre assolto 130 non mi risultano molti meno poi più che assoluzioni berlusconi ha legittimamente è collezionato prescrizioni o assoluzioni perché il fatto non costituisce più reato perché è stata cambiata una qualche normativa e c'è da dire che ha avuto un collegio difensivo in tutti in tutta la trentina di procedimenti aperti a suo carico particolarmente brillante tra legittimi impedimenti cavilli e eccezioni che poi si sono trasformate in operazioni vincenti dal punto di vista difensivo quindi diciamo così complimenti alla difesa di berlusconi che lo ha tirato fuori anche da questo processo e qui qual era il tema il tema era che le cosiddette oggettine sono state interrogate in quanto testimoni e non in quanto invece indagate come avrebbero dovuto essere perché in quanto indagate avrebbero potuto avvalersi della facoltà di non rispondere cosa che come testimoni invece non era loro consentito e il tema qual era era capire che se il silenzio delle delle testimoni che avrebbero dovuto essere indagate era un silenzio gratuito oppure un silenzio che in qualche maniera berlusconi si era comprato era questo il tema non sono riusciti a dimostrare i magistrati della pubblica accusa che c'era un reato appunto di corruzione ovvero di pagamento di dazione di denaro di favori a queste testimoni perché nascondessero di fatto la verità alla fine la soluzione si è giocata attorno a questi elementi che se c'è all'ascolto qualche giurista ho spiegato malissimo però il tema è non è che il fatto non sussista non sussiste la fattispecie di aver considerato in un modo piuttosto che nell'altro queste testimoni che in realtà dovevano essere considerate come parti del processo in quanto chiamate in causa e dunque indagate ho confuso ancora di più le idee però mi permetto di rispondere ad alberto dicendo sì siamo un paese abbastanza singolare nel quale si ci si spertica in accuse piuttosto che in difese di uno come berlusconi che ha fatto la storia da molti punti di vista dal punto di vista imprenditoriale dal punto di vista sportivo e anche dal punto di vista politico non si può però dire che sia un esempio dal punto di vista del rispetto delle leggi e dei comportamenti poi qualcuno potrebbe dire sì ma a casa propria uno fa quello che vuole certo fa quello che vuole però nel momento in cui si propone come personaggio pubblico anche come guida di un paese quello che tu fai a casa tua non dovrebbe essere esattamente un qualcosa di totalmente ininfluente datemi pure del bacchettone datemi del moralista però effettivamente non si può dire che con questa soluzione venga restituito a berlusconi lo status di esempio poi tra l'altro non ha mai voluto esserlo lui esempio per nessuno però anche su questo ci sarebbe da discutere l'esemplarità di chi fa politica è una componente importante o addirittura necessaria oppure una componente di cui non ci si deve interessare perché l'importante che faccia bene politica che abbia delle buone proposte che fa che amministri o governi bene poi quello che fa sono affari suoi e qui gli esempi potrebbero spiegarsi e se andiamo oltre Alpe ad esempio tra Hollande o ancora Sarkozy o prima ancora Mitterrand beh ne abbiamo viste di ogni per non andare negli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy ad esempio dal punto di vista dei comportamenti personali non era certo quello che si poteva considerare un esempio per cui un dibattito aperto questo su quella che una figura pubblica dovrebbe portare con sé a livello di consapevolezza di esemplarità e di etica nei suoi comportamenti peraltro poi Berlusconi su questo almeno nel processo per cui è stato condannato lì frode fiscale l'aveva proprio fatta ma chiudiamo la parentesi non continuiamo a parlare di questo però sì è vero siamo un po' un paese di pulcinella se ci arrovelliamo intorno a questo e poi dico un'altra cosa non me ne vogliano i tifosi di Berlusconi non è ora forse che anche magari dopo aver ottenuto questa soddisfazione giudiziaria faccia un passo indietro ci risparmierebbe un po' di figure anche come paese perché anche le considerazioni fatte su Putin negli ultimi giorni francamente io come italiano me le sarei risparmiate e stanno creando difficoltà tra l'altro più al centro destra che al centro sinistra ma non me ne rallegro perché un paese si deve comunque distinguere anche per la qualità e la responsabilità dei propri governanti e non solo per il fatto di essere così brillanti nelle battute spesso fuori luogo ultima domanda di oggi Fabio ciao sono Paolo chiamo da Milano alla associazione di rettantistica sportiva del mio oratorio quando c'è da scegliere il presidente lo votano i soci per il PD pare che chiunque passa di lì possa scegliere ora tra Bonaccini e Slashlein andati in finale ma che mi paiono molto diversi fra di loro vorrei chiederti aiutaci aiutami a chiarire due aspetti di queste candidature che idea di partito propongono e come si pongono i due candidati rispetto alle tematiche eticamente sensibili grazie grazie a te Paolo per questa domanda che riguarda le primarie del PD si stanno concludendo in queste ore in Lazio e in Lombardia le cosiddette convenzioni cioè le riunioni dei circoli in cui gli iscritti possono votare uno dei quattro candidati alla segreteria nazionale ovvero Cuperlo, Schlein, Bonaccini e De Micheli i due più votati nell'ambito di queste convenzioni dei circoli domenica prossima 26 di febbraio si sfideranno alle cosiddette primarie aperte primarie aperte dove con l'ennesimo cambiamento diciamo così di ottica rispetto a quello che è uno statuto e un regolamento il PD e dà la possibilità di votare anche online per i propri iscritti e simpatizzanti all'estero purché si registrino su una piattaforma o permette di recarsi ai gazebi invece a tutti coloro che lo vorranno nella prossima domenica come si diceva due domande facevi Paolo la prima come si ponga qual è l'idea del partito che hanno Eli Schlein da una parte e Stefano Bonaccini dall'altra Eli Schlein ha un'idea di un partito di sinistra un partito che si ispira esplicitamente alla tradizione socialista che ha degli atteggiamenti molto radicali dal punto di vista delle scelte sociali delle scelte anche etiche e rispondo anche sulla seconda domanda un atteggiamento quello di Schlein sostanzialmente libertario e molto molto spinto sui diritti individuali questa è la fotografia che do in maniera molto semplicistica Bonaccini su questi due temi Bonaccini ha un'idea di un partito che vuole recuperare molto la dimensione territoriale dei suoi amministratori locali è un partito che voglia tenere assieme diverse culture è un partito maggioritario se Eli Schlein ha in mente un partito che si riferisce a un segmento ben preciso e identificato di società Bonaccini dice no, nostro è un partito che parla a tutti che vuole raccogliere le diverse culture e vuole essere un partito maggioritario che non significa che non vuole fare alleanze ma vuole parlare a tutti e non semplicemente a un segmento ben preciso dal punto di vista sociale e ideologico dal punto di vista dei temi etici poi Bonaccini è pragmatico ovvero sì assolutamente ha un'attenzione a quelli che sono i diritti coniugando però in maniera molto significativa i diritti individuali a livello relazionale e a livello di diritti sociali anche la Schlein dice che sono fondamentali i diritti sociali da tenere assieme a quelli individuali però ha un atteggiamento più radicale e libertario rispetto a quello di Bonaccini più mediatore nei confronti anche di questi temi l'ho spiegata così chiaramente in maniera poco approfondita e probabilmente anche criticabile da parte di qualcuno permettetemi però di dire altre due cose riguardo le primarie primo io sosterrò Bonaccini secondo credo che queste primarie rischino di portare con sé non tanto un giudizio su quelle che sono le piattaforme programmatiche delle diverse proposte dei candidati alla segreteria quanto un giudizio su quello che rappresentano i diversi candidati credo che la Schlein rappresenti un po' il giovanilismo e il nuovismo e la voglia di dare una scossa dicendo è tutto da rifare a casa tutta la dirigenza che in questi anni non ha dato il meglio di sé Bonaccini invece dice cambiamo la dirigenza ma ripartendo dai territori e ripartendo anche dalle competenze poi ci sono accuse reciproche la Schlein dice Bonaccini vuole portarsi con sé tutto l'apparato di contro però la Schlein ha tra i suoi sostenitori anche figure che sono storicamente dei dirigenti di partito pensiamo a Franceschini piuttosto che lo stesso Zingaretti per citare solo due anni piuttosto che D'Alema che ha detto di non schierarsi ma i suoi sono da quella parte perché io voterò Bonaccini? perché credo davvero che serva una figura capace di tenere assieme io vedo Ellie Schlein come figura più divisiva legittimamente divisiva o da una parte o dall'altra che entra in maniera molto tagliente anche all'interno dei problemi Bonaccini lo vedo come un rappresentante politico in grado invece di tenere assieme di tessere delle relazioni di essere chiaro sui principi e sulle proposte ma portandosi dietro anche tutti quelli che si possono convincere non solo quelli che fin da subito decidono di stare con te e poi l'altra cosa è la valorizzazione dei territori degli amministratori locali una capacità di avere un partito davvero questo sì che mi convince la vocazione maggioritaria che parli a tutti che non deleghi il dialogo con i moderati a quelli che stanno fuori dal partito la rappresentanza che ne so di interessi che possono avere a che fare con dei mondi che non si sentono pienamente di sinistra e li deleghiamo fuori dal partito a me piace un PD che è il PD anche se vogliamo degli inizi non del ma anche di Veltroni ma un PD capace di parlare a tutti capace di rappresentare al proprio interno anche i riformisti e non solo i massimalisti ecco finché non ci si toglierà da questo derby tra massimalisti e riformisti credo che la sinistra non andrà da nessuna parte e penso che per questo Bonacini possa essere la figura migliore chiaro che la si può pensare in maniera diversa chiaro è che per il PD l'appuntamento di domenica prossima è un appuntamento molto molto delicato perché io credo ma magari sbaglio che Bonacini rappresenti la voglia di provare a fare davvero il PD che si era immaginato Elislein legittimamente immagina un PD che torni a essere un partito di sinistra più connotato anche dal punto di vista dei riferimenti al mondo socialista e massimalista a livello radicale vedremo è legittimo scegliere una strada piuttosto che l'altra e poi si vedrà quale atteggiamento tenere nei confronti di un partito piuttosto che un altro partito che si chiamerà sempre PD ma avrà certamente delle connotazioni diverse a seconda di chi si affermerà come segretario del partito stesso è tutto mi fermo qui grazie per avermi seguito anche quest'oggi attendo le vostre domande per settimana prossima dobbiamo ancora riprenderci dalla botta appunto delle elezioni regionali mi spiace anche Paolo Cova che come avrete sentito io sostenevo e non ce l'ha fatta entrare in consiglio regionale ma bisogna ripartire da qui per provare davvero a costruire qualcosa di plausibile per la Lombardia di domani anche se bisogna aspettare ahimè qualche anno alla prossima grazie a tutti